Arrivano i saturimetri per 3.000 pesaresi di età superiore ai 65 anni. 3.000 erano stati promessi e non ci sarà nessun cittadino che verrà scontentato. Sono state infatti 2.944 le domande pervenute al comune di Pesero che ha destinato 40.000 euro all'acquisto di 3.000 saturimetri come cifra residua dal milione di euro arrivato dal governo che ha riconosciuto Pesero fra le città italiane più colpite dalla prima ondata di Covid. Milione di euro che il comune ha reinvestito in una massiccia operazione sociale fra bonus spesa, bonus bambini, sostegno alle imprese e ora prevenzione sanitaria alle fasce avanzate della cittadinanza. Non c'è stato overbooking. I saturimetri da domenica 6 dicembre saranno consegnati dai volontari di quartiere a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Famiglie che ora avranno in casa un prezioso strumento di monitoraggio all'ossigenazione del sangue. Il saturimetro è uno strumento piccolo che viene utilizzato proprio per vedere e verificare la saturazione dell'ossigeno all'interno del nostro organismo. È composto di uno schermo, di un piccolo schermo dove vengono riportate sia l'ossigenazione del corpo e sia i battiti cardiaci. Quindi sono praticamente le due cose che vanno sempre di pari passo. Dopodiché si inserisce all'interno del piccolo strumento un dito e si aspetta praticamente qualche secondo e dopo qualche secondo abbiamo la risposta alla nostra richiesta praticamente. Questo sul visore si vede praticamente benissimo come si deve comportare. Diciamo che l'ossigenazione per essere perfetta deve essere dai 93 ai 99.